La portiera della macchina. Apro la portiera della macchina parcheggiata in una strada stretta. Odo il rumore di un motore al massimo e un istante dopo una Golfo frena allo spasimo per non schiacciare me contro lo sportello della macchina. Il guidatore si ferma e impreca, poi sgassando corre via. Io, diversamente da ciò che avrei provato in gioventù, ho sentito compassione per quel guidatore. Perché? Commento. Perché dalla tua gioventù in poi hai posto le basi per comprendere che quel guidatore è un altro te stesso. Grazie. Grazie.